mamma mia quando le accendi mamma mia ragazzi ci sta adesso il saluto da Campografe ciao ciao fantastico ma c'è qualcuno che gode eccola eccoli mamma mia ci sta ci sta i fari i fari ciao ciao mamma mia mamma mia mamma mia quanto mi fanno godere non è l'adesivo del Campografe non è l'adesivo del Campografe volevo finirlo sull'adesivo vabbè 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 Subaru cos'è che arriva là Subaru 8 Peugeot c'è un'esercizio il Campografe che è che è l'asile che ci sta che è l'asile Grazie a tutti Grazie a tutti